Il palcoscenico meneghino, noto per identità golose, apre al mondo con 20 chef e 100 vignaioli, 450 etichette e 50 aziende. Ha aperto San Marino da bere in ricetta speciale, dorso di coniglio allo scalogno romagnolo, in formaggio fuso di fossa all'oro dei goti, quest'ultimo gran vino del Titano. Un onore, un prestigio per me essere qui, aprire la più importante kermesse culinaria a livello internazionale, è ormai un evento che si è consolidato nel tempo e aprirlo è un onore immenso per me. Presento un piatto legato al nostro territorio, un piatto unico dove c'è del coniglio con lo scalogno romagnolo, uno sformato di passatelli, che sicuramente è la cosa che più ci caratterizza, condita con del formaggio di fossa, quindi un'altra tipicità, con cardi e una salsa al passito. Sartini cucina alla grande e in mostra, come in uno show, fa vedere a tutti cosa si mangia bevendo sul monte, in locali stellati, piatti da star, proposti con semplicità. Il volto nuovo della Repubblica, curato dall'ufficio turismo e dalla segreteria industria e artigianato, al pubblico milanese direttamente dalle pagine della guida a tutto gusto, rigorosamente made in RSM San Marino.